Nella conferenza stampa del dopo giunta il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni ha parlato del caso Ilva con la chiusura delle fabbriche del gruppo Riva e della candidatura di Milano per le Olimpiadi 2024. Sentiamone allora uno stralcio. Grazie sono molto soddisfatto di questa delibera della definizione di questo programma perché era un punto appunto del nostro programma abbiamo usato lo slogan dal programma ai fatti interventi importanti che sostengono un mondo quello del commercio che è in grave crisi non è solo quello in grave crisi ma qui ci occupiamo di questo e queste misure sono misure che possono aiutare il settore a riprendersi dalla grave crisi che attraversa. Sono buone notizie buone notizie per noi per il governo della Regione perché è un importante punto del programma che viene attuato buone notizie per i nostri operatori a cui si affiancano però brutte notizie che vengono dal mondo del lavoro la notizia di ieri nella decisione del gruppo Riva di chiudere gli impianti mi sono subito attivato sono tre gli impianti sono cinque gli impianti che interessano la Lombardia tra in provincia di Brescia uno in provincia di Varese uno in provincia di Lecco per 720 addetti 720 lavoratori ci siamo subito attivati per chiedere un incontro con la proprietà e per attivare il governo. Oggi vedrò il Presidente del Consiglio Letta che viene a Milano gli presenterò la richiesta anche a nome della Cisla del sindacato di un incontro urgente so che lunedì Zanonato ha chiesto un incontro con il responsabile con il Presidente del gruppo Riva ecco noi stiamo monitorando vogliamo monitorare perché non accettiamo questi ricatti e penso che i lavoratori debbano essere tutelati fino in fondo poi le questioni i rapporti tra le imprese e la magistratura devono essere all'attenzione del governo naturalmente ma il governo deve attivarsi perché gli impianti non chiudano e perché i lavoratori di imprese come queste vengano assistiti, vengano tutelati. Noi intendiamo come Regione svolgere un ruolo attivo assieme al sindacato e al mondo delle imprese perché la chiusura venga scongiurata e vengano riaperti immediatamente gli impianti. Grazie a tutti coloro che sottoscrivono l'accordo di programma. Investire sullo sport e investire anche sullo stile di vita come hai detto sulla qualità della vita che vuol dire anche prevenzione ed è importante questo impegno per noi lo sport non è, per noi Regione lo sport non è un'attività secondaria, è uno dei pilastri fondamentali di intervento e di azione e l'importanza è oggi sottolineata e confermata dalla presenza su questo tavolo del mondo dello sport del mondo della scuola, delle istituzioni coordinate da Regione Lombardia, ciascuno deve fare la sua parte ma la leale collaborazione tra le istituzioni è il metodo che noi abbiamo cominciato a seguire e vogliamo continuare a seguire per mettere insieme tutte le forze che sono disponibili e questo piano, questo programma dimostra appunto quanto sia utile e importante unire tutte le istituzioni. Così ho cercato di fare ieri con il sindaco Pisapia per quanto riguarda la candidatura di Milano alle Olimpiadi 2024. È stato detto, è prematuro parlarne, forse è così, però ho voluto mettere le mani avanti non solo perché non compete a me naturalmente ma al sindaco presentare la candidatura ma non solo perché ci credo, perché può essere una grande opportunità per Milano ma perché qui ci sono proprio le condizioni e l'evoluzione naturale dell'appuntamento importante che avremo nel 2015 Expo sull'area Expo che sarà smantellata dopo la chiusura di Expo quasi integralmente ci sono lì tutte le condizioni perché secondo noi sorga la città olimpica, il parco olimpico che Milano e la Lombardia vogliono, di cui Milano e la Lombardia hanno bisogno e che sarebbe la destinazione ottimale secondo noi di quell'area che sarà ben servita dalla metropolitana, dai collegamenti, ampi parcheggi, è l'area ideale e credo che questa opportunità debba essere colta. È importante e stiamo lavorando intensamente perché Expo abbia successo come ho detto incontrerò il Presidente del Consiglio fra poco che viene in visita a Expo ma è importante anche per vedere che cosa succederà dopo perché quell'area dove si svolge l'esposizione non rimanga inutilizzata e secondo noi la destinazione naturale c'è questa straordinaria occasione sarebbe proprio il parco olimpico cercherò di convincere, incontreremo io e il Sindaco Pisapia che non è contrario naturalmente a questa, è un po' più prudente di me diciamo, incontreremo il Presidente Malagò nei prossimi giorni e cercheremo di convincerlo. È chiaro che se il sostegno alla candidatura di Milano verrà sottoscritto anche dalle istituzioni, del mondo dello sport e dalle altre istituzioni la via sarà più semplice, però noi abbiamo aperto la via diciamo perché ci crediamo la Regione sostiene questa candidatura, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vedremo se questa candidatura raggiungerà la condivisione di tutti i soggetti che sono interessati e coinvolti.